Bella raga, oggi siamo in un nuovissimo video abbastanza particolare perchè oggi abbiamo incontrato un nab che già mi dava fastidio su instagram e abbiamo cercato di trollare alcuni stranieri anche se molti non ci parlavano mi raccomando lasciate un bel like lo so che questa è una nuova inquadratura di oggi perchè volevo provare a testare qualcosina di nuovo anche se ovviamente sono le prime armi e non vi potete aspettare chissà gran che cosa io vi lascio al video e spero che vi piaccia ecco quando uno si fa una domanda del tipo il BM conferma di aver comprato l'abilità dei cinesi e dice che le ricette di ciccio sono pure buone il gioco è per fare le ricette di cucina, non mi piace possiamo andare a T-R-S-E-P come? si, andiamo a T-R-S-E-P ma tu non ti ho preso in giro anzi sei tu che ci prendi in giro e sei pregato di finirla perchè ci sto prendendo in giro? perchè con questa cucina di schifo ti conviene che la togli con noi ma questa è la mia moglie sono il fratello io che è Enwak è impossibile sono il fratello ma chi lo conosce è che è Enwak no 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 non era pronto cresci un pochino vita non è giusto cresci un pochino e poi capirai magari cosa vuol dire giocare a Fortnite Senti, non l'ho capito ancora io che sto giocando da tanto quindi secondo me magari ti conviene che ti fai qualche bella partitina calmo calmo ti compri il libro di Ciccio Gamer Ciccio Gamer fa le ricette di cucina, non mi piace eh sì, sono buone anche quelle non sono male quelle ricette così mangio e cresci sì, infatti diventi forte come lui e però se guarda come Ciccio Gamer mi cresce la pancia eh vabbè ragazzi eh vabbè ti farei poi l'addomino plastico tranquillo eh infatti l'ho ucciso oh che scoperta e mi fai pure un eco talmente di schifo che probabilmente le tue cuffiette le avrei comprate rum a rucchino avrà comprato quelle tipo Made in China 5 euro ma neanche quelle gratis a momenti ma tu giochi in maniera proprio gratis c'è controller cinese colpi cinesi magari ti scrocchi un panino gratis no per fisico quello del mcdonald però eh sì, quello del mcdonald quale? quello scroccato non mi piace no, proprio doppio cheese sì, doppio grosso doppio gratis vabbè, io ho trovato la macchinetta del D&D cosa? scrocchi dalla macchinetta? sì guarda scroccone cosa vuol dire? il tuo secondo nome dovrebbe essere il signor scroccone imbo, dove sei andato? oh che babbaro oh che nuac dove stai? mi chiamo Piero sì, Piero torna indietro dai, mi fai un kebab bello caldo non c'è più mi fai un kebab bello caldo bello rinfrescante che curioso è anche oh che babbaro ti piacerebbe fare il kebabbaro quello abusivo però sì ti sta rompendo ancora vai è vivo ma non ancora per molto c'è qualcuno che mi fa le coraghe questo mi dà un fastidio non sono io sarà per forza Kenwak con quel con quel cosa la di un euro mi sta facendo crashare tutto qua è la mia forza cinese sì la tua forza è una rocchina anche quella oh kebab sei morto ti chiama il kebab ti sta chiamando oh che babbino che babbaro oh non ti trovo io mi chiamavo così no io ti chiamo come mi pare kebab ma mi sta pure la ganna il gioco per colpa tua lo sai si chiama fottere kebabbaro cosa fottere del kebabbaro ah non lo sapevo che bel kebabbarì oh kebab forza del kebabbaro no super saiyan si super kebab anzi super super nabbo ecco sei fortissimi si mi chiamano ninja ah ninja ninja secondo me ti dovrebbero chiamare anti ninja poi non lo so ti dovrebbero chiamare super ninja guarda ninja dove sei finito ninja eh lo so che signore ah bene o male che l'hai scoperto finalmente che sono nabbo guarda spero caso guarda sono nabbo non mi so muovere invece guarda tutti sei stramegamo tanto muovere ecco ecco ninja che sta arrivando guarda guarda spara a caso spara a caso non so sparare oh ninja ninja non mi sto uccidendo io sto sparando a caso ti ucciso sto sparando a caso ti ucciso sparando a caso ho ucciso ninja sono più fati ti sceglie ho ucciso ninja sparando a caso si le hack si le hack vedi se non utilizzi tu le hack ninja dei miei stivali oh guarda spara a caso ah 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 guarda spara a caso yah guarda guarda spara tutto a caso perchè sono scemo ah 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 spara a caso ah 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 come? cosa hai detto? mi hai detto coglione? va bene vai 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 facciamo una partita ecco è pure abbandonato per fortuna ma perchè ti sei arrabbiato che non hai ancora capito? perchè non ne posso più questo qua mi ha scritto mi continua a scrivere su instagram merda 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 nabbo 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 cioè ho capito non è che non ho capito chi è questo? parla Even se c'è il alo qui è qué secondo jugo üne vuoi commentando nabbo con dire già dove siete sa qui? è inna cosa? nói? inglesa lì as ok che mi ha detto phi questo è inglese hispana ok ci sono come cazzo si dice fire? come si dice? ecco bravo che però si chiama fly ma magari fly dalle scale magari fly dalle scale io sono italiano no capire che babbo no ti pare questo stento sta l'inglese oh e magari è un bravo slow slow dov'è ninja ninja com'è che si dà raga gli chiedete se conosce ninja qua qua a questo io sono italiano figurati vabbè anch'io astento astento sono gli italiani quindi c'è un miracolo si conosce l'italiano no no vabbè vabbè slow dove sei ok squad cosa? no questo qua questo abbandonato ha detto fuck you questo abbandonato ha detto fuck you raga raga no 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 questo io lo segnalo com'è che si fa segnalare? eh devi andare su opzioni e c'è scritto patchback no non c'è più scritto no si va sulle impostazioni eh patchback a me mi dà commento o che è il giocatore no io lo segnalo col cavolo che mi dice pure fuck raga e poi voglio un bel like perchè col cavolo che questo ci offende gratis nome del giocatore era questo qua slow vai allora cosa gli scriviamo? categoria nome offensivo cioè non mi può dire mica fuck vediamo bravo un secondo attacco la tastiera se magari aspetto un secondo ok poi nome del giocatore messo corpo allora questo tizio pure sbagliato tizio mi ha detto fuck lo so che non ci scrive così allora lo scrivo fuck yo vai tanto che siamo ancora vivi ecco questo tizio mi ha detto fuck you spediamo invia ecco così impari a dirmi quelle brutte cose che non vanno detto ai bimbi bello hello 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 call of pane call of pane call of duty questo non è che questo parla e abbandoniamo come la cala 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 hamla 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 cosa parla questo parla hamla 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 where are you from questo ha abbandonato abbandonato questo ha abbandonato chi è questo pizza gamer foto parla pixel pixel gamer Com'è che si leggono i numeri fa? Vabbè Fallo one nine five Pizzle Raga questo non parla E un altro Dai abbandoniamo Hello hello Chi è questo? Un arabo Ugale Arabo Non parla neanche questo Ma Perché Perché gli arabi non sanno parlare? Ho capito che nella loro terra Rompono le scuole Però vabbè Dai abbandoniamo Dai Allora Hello hello Block 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 Trades block Eins nine Trades Trades Secondo me la loro parola è tipo così Abduld Questo qua sarà un altro abduld No raga questo non parla Questo è un altro che non studia l'italiano Quindi andiamo Vediamo Abduld Abduld Come si chiama qua? Abduld Abduld Com'è qua? Abduld 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 Ehi man come butta Abduld Where are you from Abduld A Bodo Come cosa si dice? a bordo raga questo è terrorizzato ecco che sta volando questo io lo provo a seguire anche se non ho armi quindi mi ammazzeranno subito a bordo vai l'ho messo a terra col piccone raga un bel like solo per questo a bordo e guarda questo piccolo giorgino mi lascia aspetta che c'è una bella arma ecco bene e una chi ma sono morto io ho fatto tutto la pronta quella chi è questo di animale questo che anima chi è animal 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 animale eh però non si trovano raga questi secondo me sono tutti terrorizzati come butta neilers where are you from dove irlanda irlanda si yeah 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 questo sembra tedesco yeah 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 ragazzi siamo arrivati al termine di questo video se vi è piaciuto lasciate un bel like condividete e commentate qui è Giova e Anonimo che vi salutiamo bella raga ciao Ciao